Benvenuti in SR Mechatronic, vi presentiamo la nostra gamma di antenne paraboliche appuntamento automatico nate per soddisfare la clientela più esigente grazie ad una meccanica e ad una tecnologia senza paragoni. ASR 900 SKU è la nostra parabola top di gamma nata per i clienti più esigenti amanti dei lunghi viaggi e delle grandissime percorrenze grazie alla tecnologia GPS SKU e al sistema rotante vi consente di mantenere un segnale perfetto ovunque voi siate nel mondo. ASR 800 un camper di qualità merita una parabola di grande qualità particolare in alluminio anodizzato alluminio stampato e verniciato sia per la piastra di accoppiamento con il piatto sia per il basamento che alloggia una meccanica con viti in acciaio cementato senza fine e ingranaggi in bronzo movimentata da dei motori per automotive affidabili e resistenti il tutto incorporato in una scocca di design elegante e sobria per proteggere una meccanica eccellente ed una tecnologia all'avanguardia. Se ASR 900 SKU e ASR 800 rappresentano il nostro top di gamma ASR 680 e ASR 650 flat rappresentano il nostro entry level pur senza mai rinunciare a grande qualità ed affidabilità che SR Mechatronic vi offre da sempre sia che si tratti di particolari in alluminio anodizzato sia che si tratti di particolari in alluminio stampato e di design così come la scocca o una scocca sobria e robusta non si rinuncia mai ad una meccanica d'eccellenza e ad una tecnologia all'avanguardia. grazie a tutti!